Pietro Cangemi, Torregrotta, 19esima giornata, il campionato Under-17 provinciale messinese la compagine torrese di mister Errante, reduci alla vittoria per 5-0 contro il Milazzo ospita la Valdinisi di mister Ardizzone che ha trovato un 8-1 roboante contro la Messana a direzione di gara affidata al signor Francesco Di Fiore della sezione di Messina quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Francesco Morabito possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 13 giri di lanciente con la prima occasione di marca torrese, palla lunga per Errante che si presenta a 2x2 con altri marchi, abile, l'estremo difensore della compagine Ionica al negargli la gioia del gol a 17esimo e Consolo Coniglio a sprintare sull'automaccino mettere dentro per Frisone, stoppa, sterza, Frisone, una buona occasione il diagonale si schianta sul palo alla prima vera occasione a passare e la Valdinesi con Canciola che anticipa l'avversario si invola verso la porta torrese, chiude con un mancino che batte l'estremo difensore torrese 0-1 il Pietro Cangemi a sorpresa passa la Valdinesi, prova a reagire il Torregrotta al minuto 25 con la punizione larga di un paio di metri da parte di Barresi si rifarà 5 minuti più tardi l'attaccante di Mister Errante che sfrutta il buco della retroguardia Ionica sprinta, chiude con un mancino che batte Trimarchi ristabilita la parità del punteggio al Pietro Cangemi di Torregrotta 5 minuti più tardi Consolo Coniglio fa tutto da solo serve Barresi a 2x2 con Trimarchi si supera col piedone l'estremo difensore della compagine Ionica minuto 40 però Frisone recupera palla si insinua tra le maglie della Valdinesi scaglia il destro, imperfetto Trimarchi mette la freccia il Torregrotta e 2-1 proprio prima del duplice fischio del direttore di gara primo tempo in archivio Cacciola porta in vantaggio la Valdinesi poi le marcature da parte di Barresi e Frisone a ribaltare il risultato dentro Guido al posto di Di Giovanni minuto 54, 5 minuti più tardi un calcio di rigore assegnato al direttore di gara per questo tocco un po' dubbio da parte di Fresta mette tutti d'accordo però all'ora di gioco Trimarchi che ipnotizza Barresi si supera con questo balzo felino alla propria destra e si resta sul 2-1 5 minuti più tardi prova a mettersi in evidenza il nuovo entrato Guido ancora una volta Trimarchi indossa il mantello volando alla propria destra minuto 68 ci prova la Valdinesi con Cacciola che piazza il mancino Pino riesce ad allungare in corner dentro anche la ganga tra le fila torresi occasione per Guido 4 minuti più tardi ma ancora una volta uno straordinario Trimarchi nega la gioia del gol nel finale proteste da parte di Festa già monito in occasione del calcio di rigore secondo giallo e conseguente rosso dentro Pino nel finale al posto di errante ultima emozione di marca torrese con Guido che duetta col compagno ancora una volta Trimarchi a ergersi paladino della prima porta scampo di gara nel finale per Abade ma non c'è più tempo triplice fischio Torregrotta Valdinesi è già storia i torresi si aggiudicano i tre punti per 2-1 un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima Torregrotta 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 Torregrotta